In esclusiva per il nostro portale siamo a Viella, una tournée davvero fantastica e legnanesi quest'anno arrivano qui da noi in Piemonte. E' con noi Enrico Barlocco, direttore di compagnia. Due parole su questa meraviglia di spettacolo. E che dirti, questo spettacolo ha avuto un grande successo, fortunatamente. E' stato ben apprezzato dal pubblico, siamo riduci da una tournée veramente impegnativa. Oggi saremo alla centodecima replica o qualcosa del genere e siamo molto felici. Il nuovo spettacolo che portiamo oggi a Viella è La vita è fatta a scale, è un estratto della scala immobile, il grande spettacolo che portiamo in scena a Milano, nei capovoli di provincia, comunque nelle città più grandi. E qua per questione di spazio abbiamo dovuto fare una riduzione. Oggi è il 6 di maggio, siamo a Viella. Il prossimo spettacolo, diamo già una data e l'indicazione del luogo. Il prossimo spettacolo è domani a Gorgonzola. Domani e dopo siamo a Gorgonzola. In realtà siamo impegnati tutta la settimana. Non vi fermate mai? Uno spettacolo a sera? Decisamente no, in questo periodo decisamente no. Sprendiamo la pausa solo ad agosto, ci prendiamo. Bene, regalate sorrisi, regalate emozioni, ma soprattutto regalate anche un po' di pensiero sociale in questo nostro paese che ha tanto bisogno. Sì, cerchiamo sempre di dare una morale ai nostri spettacoli, di dare una chiave di lettura e Antonio, Enrico e Gigi ci riescono assolutamente sempre molto bene. Essere profondi nonostante facciano divertire, facciano rire. So che avete un sito, se i nostri telespettatori vogliono curiosare e vedere anche il DVD con le vostre produzioni. Tra l'altro abbiamo appena rifatto il sito internet che è www.ilegnanesi.it dove possono trovare tutte le curiosità, la storia dell'Egnanesi, le date, tutta una serie di cose che abbiamo anche i social network, le pagine Facebook, Twitter, tutto. Benissimo, non ci manca nulla. Via, guarderemo tutta questa serata e poi ci rivedremo al termine. Eccoci a Biella, il 6 maggio, una turnestra e fitosi legnanesi, tutti per noi. Abbiamo qui mamma, papà e la bellissima mamma Biglia, la figlia. Ciao! Un saluto ai nostri Biellesi. Ciao a tutti, siamo a Biella, le pieni qui. Grazie, come sempre ci seguite numerosi. Mi raccomando, non dimenticate mai, mi è scappata una capsule. Non dimenticate mai quel facione qui, mi raccomando il mio Giovanni. Dichi qui cosa qua. Quei a Biella, mi accorgo, mi sento accorgo. Bravo, adesso parla più per la posizione. Allora mi raccomando, mi raccomando, sempre in forma a Biellesi, tanti auguri, buone ferie e noi ci rivediamo l'anno prossimo. Vero mamma, che ragionamenti! Ciao a tutti, un bacione. Ciao, ciao il dubbio.